Un mese fa la denuncia per la presenza di rifiuti in via Fonte dell'Olmo nella zona sud di Roseto nelle immediate vicinanze del servizio scarico riservato ai camper. A distanza di 30 giorni la situazione non è affatto migliorata, anzi la discarica a cielo aperto è cresciuta ulteriormente. Giuseppe Di Gennaro, presidente dell'associazione Camper Club Mare Blu di Roseto, è tornato a sollevare il problema. Continua ad aumentare il numero delle gomme delle macchine, i pezzi di ricambio delle macchine tipo spoiler eccetera ma oltretutto la cosa più brutta è che vengono a buttarci le cassette di pesce non consumate e quindi c'è una putrefazione con boots in giro che fa paura. C'è tanta amarezza perché gli episodi di vandalismo e di abbandono dei rifiuti sono stati segnalati agli organi competenti è stato chiesto più volte l'intervento del comune ma l'area di notte viene vandalizzata. Pneumatici, materiale da cantiere, potature di giardini privati, plastica, non manca nulla. Potrebbe essere installata una telecamera di videosorveglianza su una torre faro dello stadio di via Fonte dell'Olmo o una semplice fototrappola nascosta nell'immediata vegetazione. Devo constatare che malgrado tutte le nostre iniziative, le nostre eccetera, nessuno si muove l'amministrazione non mette una telecamera, non mette nulla per poter individuare questi soggetti che vengono regolarmente qui di notte a buttare queste immondizie a discapito del turismo rosetane perché già stamattina vediamo c'è un camper di Milano che sta scaricando in questo momento che sta utilizzando il servizio camper e questo chiaramente dispiace perché non è un bel biglietto da visita per il turista itinerante che arriva a Rosetta. I rifiuti vengono abbandonati anche a ridosso del muro di cinta dello stadio, della bonifica, delle aree. Non c'è traccia, anche se in mattinata è stato svuotato il bidone dove vengono lasciati i rifiuti organici che emanano un pessimo odore. Se si arrivava qua ieri mattina il bidone era stracolmo e quindi c'era di tutto e di più. Ed è impossibile avere ancora in pieni stati il mese di agosto una situazione simile quando qui centinaia e centinaia di camper da tutta Italia ma anche dall'Europa vengono a scaricare regolarmente perché è un servizio comunale. Abbiamo messo come associazione dei cartelli per cercare di far migliorare la situazione ma purtroppo è rimasto, anzi è peggiorato. La notte scorsa i soliti ignoti hanno lasciato al centro della strada persino i sanitari portati via probabilmente da un bagno in ristrutturazione. Ho dovuto per l'ennesima volta rimuovere un bidone dal centro della strada e spostarlo per far passare i camere perché stanotte qualcuno ha ributtato un bidone dal centro della strada. Sembra che la discarica di rosetta sia diventata via fonte dell'olmo.